Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi sabato 6 maggio. Quali sono i temi della giornata? Sono sostanzialmente due, Renzi e Macron. Macron perché ci sono le elezioni domani in Francia e si capirà se il 62% che gli attribuiscono i sondaggi è vero oppure il successo non è così scontato del leader del partito Marche, un partito che si è inventato lui. E dall'altra Renzi che inizia a bastonare il governo in maniera che noi abbiamo già sentito nel passato nei confronti del governo Letta. Vedremo come andrà a finire. Partiamo da Renzi. Due sono le leggi, lo sottolinea bene oggi Sallusti ma un po' tutti quanti i giornali, sono due le leggi che Renzi da segretario del PD non appena è diventato segretario del PD ha iniziato a criticare. Leggi che attribuisce al governo e non al Parlamento di cui lui è segretario. Quindi una cosa anche un po' strana. La prima è quella sulla legittima difesa, peraltro approvata in commissione da un fedelissimo di Renzi che è Ermini che noi più volte abbiamo avuto ospite in studio a Matrix. Quindi mi chiedo, in realtà potevano telefonarsi lui e Ermini da segretario e dal suo confidente, comunque pari amico. E dall'altra, oltre alla legittima difesa, è la questione sul telemarketing per la quale i giornali ne hanno parlato abbondantemente, io un po' meno, e cioè che le telefonate fastidiose che vi attivano sui cellulari potrebbero, secondo una norma di silenzio assenso, aumentare ancora di più. Dice così non andiamo avanti. Orlando gli risponde su Repubblica dicendo che Renzi sulla legittima difesa insegue la destra, ma il punto fondamentale non è il merito di quello che lui sta dicendo, è il fatto che il segretario del PD invece di prendere i suoi nelle sue maggioranze parlamentari e cambiare le leggi sembra che stia cannoneggiando il governo dicendo così non duriamo un anno e il problema è lui che deve occuparsi di far durare un anno un governo che fino a prova contraria è espressione del PD. E poi l'altra cosa che mi viene da pensare quando lui dice che queste leggi sono scritte male riguardo alla notte nella legittima difesa, riguardo al telemarketing, mi sembra che il governo Renzi non è che abbia dato in tre anni, come possiamo dire, il senso di una buona scrittura delle leggi, a partire da quella della Costituzione, la riforma della Costituzione che era scritta con i piedi, alla legge Madia che è stata scritta anche quella con i piedi, tant'è che è stata più volte cassata dal Consiglio di Stato, alla legge elettorale che mi sembra che sia stata scritta oltre che male senza riuscire a superare il vaglio della Corte Costituzionale, insomma grandi leggi, grandi, come si dice, grandi, metto un po' più in alto, grandi lezioni su come scrivere una legge forse lui non la può dare. Giorgio Tocchi, buongiorno, a Hug. E andiamo avanti sulle... Anche Alessandro, buongiorno, è vero, vuole la poltrona. Nick, trasmissione pessima? Io non so cosa fare ragazzi, qua c'è una trasmissione che per quanto mi riguarda è ottima, però la cosa che mi diverte di più è vedere tutti quanti i commentatori. Quello che oggi mi ha stupito maggiormente è il commento di Giuliano Ferrara sul foglio. Io vi dico la verità, non invidio coloro che devono fare i titoli sul foglio, perché io non avrei capito come farlo il titolo di Giuliano Ferrara. Io non ci ho capito nulla, ma ovviamente lui scrive bene, intelligente, ha una scrittura che noi tutti gli invidiamo, però insomma, così come mi capita qualche volta quando leggo in prima pagina Aldo Grasso, quando si occupa di cose generali, così oggi sempre di più mi sto accorgendo con Giuliano Ferrara che non riesco a capire dove vuole andare. Non dico che si debba essere brutali e secchi come Vittorio Feltri, che si capisce della prima riga in maniera bergamasca che cosa intende, però da quello a queste specie di... Ferrara, il tema è la legittima difesa, ce lo fai capire? Capisco i principi, ma qua ci stiamo scontrando su due o tre normette scritte in una legge, no? La notte, la non notte, la punibilità, il pagamento, sì, sono cose noiose forse per un intellettuale, però questo è il punto, è il dettaglio che è il punto della legge, non il principio, anche perché il principio in maniera molto chiara ce l'ha spiegata a Nordio, e cioè che la nostra legittima difesa deriva da un ordinamento fascista, per cui in maniera controintuitiva non è il privato a doversi difendere, cioè la norma fascista, a differenza della norma del far west, cioè quella liberale, prevede che è lo Stato che li difende, la norma del far west, che è quella individualista e liberale, invece prevede che sia l'individuo difendersi da se stesso. Insomma, questo semmai è lo scontro idee, ma non voglio competere con Ferrara, men che mai potrò farlo con quelli che fanno i titoli per Ferrara, perché la cosa è un lavoro improbo. Altrettanto improbo è coloro che fanno i titoli su Repubblica, perché oggi sono andato a leggermi con attenzione un mio mito, dal punto di vista letterario, che è Hulbeck, che ha scritto quel libro stupendo che si chiama Sottomissione, perché Hulbeck gli titolano Non posso stare con le penne, hanno sentito due scrittori, tutti e due contro la Le Penne, in genere Repubblica cerca di fare un BB o BB, cerca di trovare qualcuno che stia con la Le Penne, capisco che è difficile trovare uno scrittore che stia con la Le Penne, ma Hulbeck, che quello che ci spiegava come la Francia e l'Europa sarebbe stata sottomessa al fondamentalismo islamico, è titolato Non posso stare con la Le Penne. Poi però mi sono letto il pezzo e lui dice, è un ragionamento molto interessante, io vivo a Parigi, sono ricco, non riesco più a comprendere quel mondo che vive la Le Penne, non lo riesco a comprendere, ma nel senso tecnico del termine, non snobbistico, non faccio più parte di quel mondo, non so quali sono i loro problemi, non riesco a capire le loro esigenze, dice non posso votare Le Penne perché sono ricco. Ecco questo è il titolo di Hulbeck, un pezzo che vi è un'intervista, peraltro rilasciata ieri mi sembra a un media francese che secondo me è molto interessante. Michele Serra oggi su Repubblica, che Repubblica si ostina a mettere la rubrica sopra la testata, una cosa sempre da folli, dice domani si decide se la tradizione democratica ha ancora un senso. Insomma con la sua retorica Michele Serra ci fa capire che se non dovesse vincere Macron sarebbe la fine del mondo, una sorta di guerra di religione, perché non si può, come lo era per Trump, perché non si accetta mai l'esito democratico se è contrario alle esigenze e agli intellettualismi dei Serra e Compagnia Cantante? Il Corriere della Sera invece punta sul fatto che siano state rubate le mail a Macron e questo mi interessa relativamente. La cosa che mi interessa di più è che la battuta che Macron fa è rubate le mail, vogliono falsare il voto come negli Stati Uniti, cioè il presidente potenziale della Repubblica Francese pensa che Trump sia un usurpatore, questo sta dicendo, perché avrebbe falsato le elezioni per gli hacker. Vi è chiaro cosa ha detto ieri Macron? Bene, se questo fosse stato commentato da un giornalista alla Serra, apri di cielo, se certo non fosse stato Trump il vincitore americano, ma Clinton avrebbero detto una cosa incredibile. La Repubblica fa un'operazione che a molti di voi che mi considerano un destro conservatore invece a me piace, e cioè la liberalizzazione della marijuana. Roberti, procuratore antimafia, dice una cosa che secondo me è sacrosanta, e cioè che bisogna farla gestire, lui dice dallo Stato, io sarei proprio per la privatizzazione, e cioè mi sembra che alimenti mafie, alimenti criminalità, alimenti irregolarità, il monopolio mafioso delle droghe, tant'è, visto che sono di fatto liberalizzate, perché chiunque si può comprare una canna in giro, converrebbe legalizzarle. A me il tema piace, so che sono una minoranza su questo, una minoranza mi è rimasto un po' di DNA radicale in questo, e ve lo sottopongo, leggete oggi, pagina 2 e 3 della Repubblica che titola su questo. Droga con IVA al 22%, 25%, non di più. L'altra ultima cosa che vi segnalo è i vaccini. Sui vaccini il Laus Organ del Movimento 5 Stelle, cioè Marco Travaglio, oggi in prima pagina sul fatto rubrica la seguente cosa, la storia, la storia, sì, Samuele non è radicale, è DNA liberale, hai ragione, è un liberale quello della liberalizzazione delle droghe. La storia rubrica il fatto in prima quotidiana. Sapete qual è la storia? Quel vaccino sbagliato e mio figlio autistico. Allora, quando il fatto mette in prima pagina la storia, quel vaccino sbagliato e mio figlio autistico, secondo voi, secondo voi, qualche piccolo pregiudizio nei confronti dei vaccini lo crea nei suoi lettori o no. Avete capito che cosa intendo. L'ultima cosa riguarda una banalità di cui oggi non si occupano i giornali, ma di cui mi occuperei io. Mi è dato un po' fastidio l'idea, l'attacco a Di Maio fatto dallo studente di Harvard che dice che non sei neanche laureato e vuoi fare governare l'Italia. Ho letto anche le reazioni che Di Maio ha avuto ad Harvard da parte di altri professori, eccetera. Io lì penso, io lì penso, lo sapete che non sono certo un fan del Movimento 5 Stelle, lì penso che ogni tanto ci sia un sovramercato dei giornali tradizionali italiani che hanno voluto bastonare Di Maio nella sua visita ad Harvard. Ve lo dico con grande serenità, essendo io non auso organe del Movimento 5 Stelle e tutt'altro. E mettere in evidenza il fatto che uno si sia alzato e gli abbia detto lei neanche laureato vuole fare il governare l'Italia. Intanto dimostra l'incapacità intellettuale di questo studente di Harvard che non ha capito che non è in funzione della laurea la capacità di poter governare un paese, secondo me. Certo, poi se uno scrive le minchiate come ha scritto la Fedeli e la sua laurea è stata 30 anni di sindacalismo, quello è il problema. E dall'altra dimostra come un po' i giornali italiani abbiano, come posso dire, passino da un eccesso all'altro, o il mito o la vendetta. Vi do un saluto, vi faccio un saluto e vi auguro buona domenica e noi ci vediamo domani con la zuppa di porro e più tardi con qualche articolo che vi pubblicherò sul sito. Ciao.